Buonasera, benvenuti. Sono Simonetta Shandivashi, Giuseppe non ha bisogno di presentazioni, uno scrittore di questa città. Io invece sono una giornalista della stampa. Allora, stasera parliamo della seconda puntata di una storia familiare che immagino conosciate tutti. Questa è la storia della mamma di Walter Alasia, sua zia. Adesso ci arriviamo piano piano. Io, quando ho letto Il Tempo di Morire, che invece era proprio la storia di Walter Alasia e del rapporto Giuseppe con Walter Alasia, che era suo cugino, ho immediatamente pensato che fosse un libro importante non per fare i conti con una parte della nostra storia che è la parte degli anni del terrorismo e degli anni di piombo, ma sicuramente era un libro importante su questo, ma era anche proprio un libro più in generale su che cosa significa parlare della storia e dell'idea deterministica che noi abbiamo della storia. Stasera forse questo concetto lo faremo tremare. Tu lo hai fatto tremare, soprattutto in quest'altro libro. Cioè quella grande storia che si infila nelle vite delle persone, dei piccoli, e li trova indifesi. Ecco, in quel libro lì, nel Tempo di Morire, c'era molto questa idea. C'è anche qui. Io però ho cambiato un po' prospettiva, nel senso che penso sempre che poi una parte anche i piccoli la fanno, ma penso che tutto il lavoro di Giuseppe Ruoti intorno alla responsabilità non tanto alla colpa, però penso che raccontare la storia di Walter Alasia sia importante anche perché ci permette di fare una cosa che in questo paese non facciamo quando parliamo di quegli anni e cioè guardare quello che è successo anche dalla parte di altre vittime che sono state vittime ugualmente rispetto a chi ha subito e sono i parenti, diciamo, di chi ha fatto parte delle Brigate Rosse perché Walter Alasia è stato, anche se per un breve momento della sua vita, un brigatista. E Giuseppe, tanto nel Tempo di Morire quanto in questo secondo libro, il Tempo di Morire con te, scusate, niente, io continuo a sbagliare il tempo, grazie per avermelo detto, perché ho Battisti in testa, comunque c'è niente da fare. Ha fatto, niente, mi sono persa, aspetta che cosa stavo dicendo? Che hai fatto qualcosa, hai fatto un danno, no ecco, ci ha aperto, almeno io mi sono resa conto che molta di quella storia, lo sappiamo tutti quanti che questo è un paese che non fa i conti con molte parti della sua storia, in particolare con quella lì, che è un grande mistero, fatto di silenzi, di cose omesse, anche di realtà che non si vogliono vedere. Una delle realtà che non si vogliono vedere è la realtà della natura umana, che è doppia, tripla, sfumata e Walter Alasia, soltanto Giuseppe, ce lo ha fatto vedere per primo come il ragazzo che era e non un mostro. E quello era un libro che io pensavo avesse fatto, il tempo di vivere con te, avesse fatto la sua funzione. Invece Giuseppe poi ha scritto un'altra parte di quella storia, che era la storia di sua mamma, Ada, che per un piccolo momento aiuta Walter, ci arriviamo anche a questo. E io non so, Giuseppe, come tu ci sei riuscito a fare questo racconto così pulito dal dolore. Non immaginiamo che cosa succede in quelle famiglie, nelle famiglie di chi ha una parte di responsabilità, perché non ci rendiamo conto che anche quelle famiglie subiscono la storia, anche nel momento in cui cercano di dirottarla, però nello stesso tempo la subiscono. E poi Ada è un personaggio meraviglioso, una donna volitiva, golosa, che tu racconti con tutta la sua fame di vita, innamorata, persa di suo figlio, come molto spesso sono le mamme. Forse acriticamente, io questo non lo so, ce lo racconterai tu, però una che dice se mio figlio avesse fatto, una donna di sinistra, se mio figlio a un certo punto avesse fatto il prete, sarei andata a messa tutte le domeniche. L'amore ti fa fare queste cose. Forse l'amore ti fa vedere l'azione giusta o la parte di giusto anche nell'azione sbagliata. Perché, e questa è la prima cosa che ti chiedo, perché hai voluto raccontare la storia di Ada? Perché certamente era un tassello mancante. Non credo che tu abbia voluto riscattare un personaggio, perché questa cosa del riscattare i personaggi, ci hanno un po' rotto le scatole tutti quanti, ma non credo che ci sia il movimento del riscatto in questo libro. Credo che sia un libro di verità storica, senz'altro, però è proprio anche un bellissimo libro sulla maternità, secondo me, e su come insieme si può agire per la cosa giusta facendo qualcosa di sbagliato. Sì, grazie Simonetta, grazie a tutti voi per essere qui, ma diciamo che partiamo dall'inizio proprio. Io ho cominciato a scrivere in realtà per scrivere la storia di Walter. Non ero in grado di farlo, perché quando Walter è morto io avevo 11 anni e quindi avendolo poi conosciuto prima del momento in cui lui ha commesso un duplice omicidio, ha fatto due vedove, ha fatto degli orfani, però avendo conosciuto il ragazzo che era prima di quel momento, nell'istante in cui ho cominciato a sentirlo raccontare come appunto un mostro, mi sono detto che un giorno avrei raccontato chi era Devere Walter, però avevo 11 anni e quindi non avevo gli strumenti per farlo. Non ho avuto gli strumenti per farlo per gran parte della mia vita in realtà, perché poi credo che tutti i libri che ho scritto siano stati il mio lento percorso di avvicinamento a questa storia qua. Tant'è che il primo romanzo che ho scritto, Tutti giù per terra, che uscì nel 94, aveva come protagonista un ragazzo che si chiamava Walter, che non c'entrava nulla con Walter all'Asia e c'era questa zia Carlotta con cui lui si confidava, che era Ada. E la zia Carlotta a un certo punto moriva, come è morta Ada. Quello era il mio modo per ricordare entrambi, non avendo proprio la capacità di farlo, perché è stato un dolore molto grande per tutti noi che l'abbiamo conosciuti e quindi era molto difficile affrontare quella storia e raccontarla con le parole giuste, diciamo. Nel momento in cui ho cominciato a scrivere Il tempo di vivere con te, ovviamente mi sono posto il problema di affrontare una storia che da un lato era molto privata e dall'altro però inevitabilmente era anche una storia che toccava una comunità, un paese. Perché Walter all'Asia, a un certo punto l'EBR di Milano chiamano la loro colonna milanese, colonna Walter all'Asia, perché lui diventa un simbolo, no? Tieni conto che quando lui viene ucciso e uccide, io avevo appunto 11 anni, lui ne aveva 20, per me era grande. Da bambino Walter per me era un grande. Adesso se io mi guardo indietro, appunto uno dei motivi per cui ho scritto questo libro, il primo dei due, è chiedermi com'è che un ragazzo così giovane, a 18-19 anni decide di entrare nelle Brigate Rosse e poi si ritrova una pistola in mano ed è pronto a sparare e uccidere, no? La grande fortuna che ho avuto dopo l'uscita del tempo di vivere con te è che ho incontrato Giorgio Bazzega, che è il figlio di uno dei due poliziotti uccisi da Walter. Giorgio è una persona straordinaria, che ha avuto una vita molto difficile perché è rimasto orfano a due anni e naturalmente ha odiato Walter per molto tempo perché era il ragazzo che gli aveva ucciso suo padre. Poi mi ha raccontato una cosa, Giorgio faceva parte dell'associazione Vittime del Terrorismo e quindi una delle regole di questa associazione era di non parlare con ex terroristi perché è una delle regole che si sono dati. Quindi lui faceva degli incontri pubblici su questo tema eccetera. Un giorno un incontro a cui partecipa un signore che si vittime della strage di Brescia, lui sente dire a Maglio Milani una cosa che lo lascia folgorato. Lui dice che Maglio Milani è il suo supereroe perché Maglio Milani si è visto esplodere sua moglie davanti agli occhi. Lui arriva in piazza dell'erologio a Brescia giorno della manifestazione e combinazione un amico lo ferma per fare due parole. La moglie prosegue, va sotto il porticato di piazza dell'erologio a Brescia e la bomba esplode e quindi lui vede sua moglie andare in pezzi. E Maglio Milani in questo incontro dice che colpa ho io per quella bomba. Quante volte sono sceso in piazza gridando uccidere un fascista non è reato e tutti i slogan dell'epoca. E Giorgio è rimasto colpito da questa cosa perché era la prima volta che una vittima cercava di mettersi nei panni dei suoi carnefici. E un'altra cosa che mi ha detto Giorgio è che lui leggendo il libro che parla di Walter per lui è stato chiudere un cerchio perché a lui mancava quel tassello lì. Avrebbe voluto conoscere la persona che aveva ucciso suo padre per capire chi era, per capire com'è che era arrivato quella mattina del 76 a impugnare quell'arma e a sparare. Tra l'altro una mattina in cui tutto quello che succede è sbagliato perché Sergio Bazzega, il papà di Giorgio era un poliziotto democratico che si batteva perché la polizia all'epoca usasse diciamo con parsimoni alle armi. È l'epoca della legge reale. Chi ha i capelli bianchi forse se la ricorda la legge reale a un certo punto viene promulgata e in realtà se tu non ti fermavi in un posto di blocco ti sparavano. Il papà di Giorgio a un certo punto esce di casa non portandosi più la pistola dietro perché un collega una mattina che va in questura viene non speronato da un atto ma un'auto gli taglia la strada. Allora lui impugna la pistola che ha con sé perché pensa che si tratti di un agguato e poi invece si rende conto che è un autobolista che ha perso il controllo dell'auto. Questo collega di Bazzega arriva e dice guardate da domani noi la pistola la teniamo in caserma ma non ce la portiamo a casa. Un'altra cosa che mi ha raccontato Giorgio che mi ha fatto molto... è stata una grande emozione. Suo padre quando ha sposato a sua madre le ha detto sposo te perché so che se io morirò saprei crescere i nostri figli da sola. Vittorio Padovani invece l'altro poliziotto ha ucciso da Walter era durante la guerra lui parlava al tedesco era già in polizia e ha salvato parecchi ebrei. Quindi quella mattina del 15 dicembre del 76 se Walter avesse saputo chi aveva di fronte non so se avrebbe sparato non lo so. Quello che ho cercato di fare io è capire perché ha sparato capire come mai appunto un ragazzo di quell'età si ritrova in quella situazione lì. E quindi il libro è stato il mio tentativo non di giustificare perché è ingiustificabile ma di capire com'è appunto questa storia con l'S maiuscola come diceva la Morante nel suo La Storia finisce per schiacciare triturare le vite che hanno una storia con l'S minuscola tra cui quella di Ada perché Ada è una alla fine anche lei rimane schiacciata dagli anni di piombo ci mette otto anni dopo la morte di suo figlio a morire di crepa cuore perché Ada lo sente morire non lo vede perché quando Walter spara poi cerca di scappare dal balcone loro vivevano al piano rialzato in questa casa popolare di Sesso San Giovanni viene ferito alle gambe da una raffica di mitra perché la casa è stata circondata e poi ovviamente mia zia mio zio e il fratello di Walter Oscar non possono muoversi sono sul divano mio zio si sente male hanno le armi puntate addosso anche loro con Walter che grida aiuto dal cortile dove giocava da bambino e poi si sente un colpo solo e Walter è stato giustiziato però io che faccio questo mestiere da tanti anni ormai e devo mettermi sempre nella testa dei miei personaggi quando sono di finzione devo provare a mettermi nella testa anche dei personaggi quando non sono di finzione e quindi cercare di capire quel poliziotto che anziché prendere Walter e portarlo davanti un giudice ha deciso di sparare un colpo al cuore perché era così perché era una guerra civile perché era una guerra che faceva morti non dico tutti i giorni ma quasi perché quel poliziotto aveva visto ammazzare due suoi colleghi e ha reagito così Ada il rapporto che aveva con Walter era di una grandissima vicinanza intimità da certe fotografie sono tutte le fotografie quelle che vedete che ha scattato il papà di Walter Guido l'Asia perché lo zio Guido aveva questa passione per la fotografia e ha fotografato questa famiglia molto numerosa perché i miei nonni avevano tre figlie e tre figli e quindi cugini a non finire questi questi pranzi estivi eccetera e lo zio Guido aveva sempre la macchina fotografica con sé e fotografava tutti e da certe fotografie si vede che il rapporto tra Walter e Ada è molto molto stretto io non ho mai visto una tale tale amore tra una madre e un figlio e quindi quando Walter a un certo punto si confide lui entra in lotta continua da ragazzino quando fa la prima superiore all'itis di Sesso San Giovanni perché perché anche lì secondo me uno si deve chiedere no uno nasce criminale cioè siamo lombrosiani decidiamo che uno si mette a sparare perché è destinato a sparare o perché c'è una serie di circostanze eventi che hanno fatto sì che la sua vita prendesse quella strada lì di nuovo non per giustificare ma cerca di capire no Walter ha 13 anni quando scoppia la bomba in piazza Fontana tre giorni dopo Pinelli precipita dal quarto piano della questura di Milano e come tanti altri ragazzi di quell'età lì Walter comincia a interessarsi di politica proprio dopo piazza Fontana e dopo la morte di Pinelli che è vissuta come un'enorme ingiustizia Pinelli il capo respiratorio soltanto un paio di anni fa per inaudito un libro di uno storico che è andato a indagare su queste storie che non sono mai state indagate in fondo fino in fondo come Ustica per la storia della Repubblica Italiana da Portella della Ginestra fino a Bologna fino a Falcone Borsellino è piena di cose che di tasselli che mancano e uno dei tasselli mancanti è la morte di Pinelli perché la questura di Milano ha quattro versioni diverse della morte di Pinelli nel giro di poche ore e questo viene visto come una grande ingiustizia l'altra ingiustizia che vede Walter con i suoi occhi è vedere tornare a casa sua madre dal lavoro siccome Ada si batte per si batte contro il il cottimo viene messo in un riparto punitivo lei lavora in una ditta la sapsa che fa parte della galassia Pirelli quindi lavora nella gomma tutto il giorno 8 ore 10 ore a seconda se fai gli straordinari oppure no e passa le sue giornate in un reparto dove non respira e lui vede tornare a casa sua madre con gli occhi rossi che tossisce che viene messa in un reparto punitivo perché protesta contro il cottimo e quindi purtroppo in quella realtà lì che è la realtà della stessa San Giovanni degli anni 70 quindi una città che era Stalingrado Italia piena di fabbriche Breda, Falc, Magneti Marelli due genitori che fanno tutti e due gli operai e quindi sono tutti e due dalla parte all'epoca si chiamavano gli sfruttati adesso forse non va più di moda ma all'epoca era così c'erano i padroni e quelli che erano sfruttati dei padroni il papà di Walter è stato internato a Mauthausen come operaio perché quando la Germania comincia ad avere problemi di mano d'opera rastrella e Guido all'Asia viene portato a si fa i suoi mesi a Mauthausen e quando si parlava dei campi di concentramento lo zio Guido lui usciva dalla stanza non riusciva a parlarne Walter nasce, cresce in quell'ambiente lì ovviamente non tutti quelli che sono nati e cresciuti in quell'ambiente lì un giorno si sono trovati una pistola in mano e hanno sparato lui purtroppo sì ed è una cosa che ha rovinato la sua vita, la vita di sua madre la vita delle persone che lui ha ucciso e dei familiari e anche dei colleghi, di chi lavorava con loro perché comunque sono eventi che è come quando tu butti una pietra in uno stagno poi tutte le onde si propagano e chissà se si è reso conto grazie a Giorgio Bazzega ho conosciuto un giorno perché Giorgio frequenta ex brigatisti assieme a una delle figlie di Moro tra l'altro hanno questo gruppo di incontro in cui hanno deciso di parlarsi tra persone che 50 anni fa, 40 anni fa non si parlavano, si sparavano e ho conosciuto Franco Bonisoli che era uno dei brigatisti che hanno fatto parte del commando che ha ucciso la scorta di Aldo Moro e che ha rapito Aldo Moro e Bonisoli mi ha raccontato che loro la mattina del 15 dicembre erano a Firenze lui e una sua compagna che aspettavano Walter perché Walter doveva entrare definitivamente in clandestinità e far parte della colonna romana delle brigate rosse quindi se fosse arrivato a Roma forse avrebbe partecipato al sequestro Moro non lo so loro non lo vedono arrivare all'epoca non c'erano i telefonini ovviamente e quindi poi quando tornano a casa scoprono cosa è successo questo per dire che Walter che era già in semi clandestinità non sapeva che il telefono di casa era sotto controllo e lui per un atto d'amore per andare a salutare ancora sua madre prima di per dirle guarda che forse non ci vediamo mai più torna a casa quel giorno e la mattina dopo vanno a prenderlo perché sanno che lui è tornato a casa quindi è un problema di cioè appunto no è un problema è una questione anche l'ultimo atto d'amore che fa Walter nei confronti di sua madre alla fine costa la vita a lui e costa la vita a Sergio Bazzega e a Vittorio Padovani ed è per quello che la grande storia arriva a macinare le vite perché perché queste vite sono inconsapevoli io nel libro a un certo punto scrivo che su quel pianerottolo lì la mattina del 15 dicembre del 76 non c'è soltanto quella squadra di polizia lì ci sono Carl Wolf c'è Bava Beccaris c'è Che Guevara cioè c'è tutto un contesto una storia che ha portato quella mattina quelle persone a trovarsi in quella situazione in cui non avrebbero dovuto trovarsi detto questo Ada la vedete lì con suo marito con Guido era una ragazza molto molto generosa molto oggi si userebbe l'aggettivo solare all'epoca non si usava lei era molto allegra molto di compagnia quando facciamo questi pranzi in famiglia lei che era molto golosa finiva tutto quello che era nel piatto degli altri rubava i vestiti alle sorelle quando era ragazzina per andare a ballare perché lei era quella un po' più formosetta era anche quella che li rovinava più facilmente perché faceva poco attenzione andava a prendere quello di mia madre di nascosto se lo metteva e poi mia madre se lo ritrovava macchiato scucito dopo che lei tornava da ballare storie così è un racconto bello di una famiglia normale quello che tu fai di una famiglia che però si trova ad attraversare dagli anni 30 agli anni 80 diciamo il cuore del nostro novecento io ricordo che tu avevi quando è uscita la prima parte di questa storia avevi scritto un pezzo sul domani non era un'intervista era un pezzo tuo in cui dicevi i mostri ci servono perché ci fanno sentire differenti e Valtralasia è stato raccontato come un mostro tanto più perché era giovane no? allora la domanda che io ti faccio è se tanto nel primo quanto in questo secondo lavoro tu ti sei domandato sul valore che ha la scelta no? se lui aveva una scelta se ce l'aveva o no anche alla luce di tutto quello che tu ci hai raccontato te lo sei chiesto perché quando si vive in un certo contesto sembra sempre che non ci sia no? è chiaro che la fame di questo ragazzo era una fame di giustizia e a volte la giustizia sembra che si possa fare soltanto compiendo anche il male o dovendosi difendere per forza però voglio la tua parola di scrittore su questo no? io penso che che Walter la scelta che ha fatto l'abbia fatta in maniera molto da un lato molto consapevole perché comunque Walter era uno che leggeva tanto studiava si guardava attorno non era era tutt'altro che che distratto anche se apparentemente anche se scherzava sempre anche se faceva sempre il buffone però era uno molto attento e e quindi credo che la sua scelta dal punto di vista politico sia stata molto molto meditata e molto chiara lui appunto entra in lotta continua che ha 14-15 anni e dall'altro io continuo a chiedermi fino a che punto quella sua scelta che aveva di sicuro dal suo punto di vista delle motivazioni molto chiare politicamente sia stata una scelta che avesse davvero messo in conto tutte le conseguenze cioè non so fino a che punto guarda tutti noi credo a 20 anni pensiamo di essere immortali lo scrittore che amato di più in vita mia Ernest Hemingway si rende conto di non essere immortale a 19 anni anche lui perché viene ferito sul carso e per tutta la vita scriverà libri che hanno a che vedere con la morte ed era innamorato di soldati dei pugili dei toreri perché erano tutti erano tutte persone che affrontavano quotidianamente la morte e lui quella morte lì che aveva sperimentato sul fronte del carso non si era più dimenticata per tutta la vita e non so fino a che punto appunto un ragazzo come Walter che aveva 20 anni che non era stato ferito sul carso si sia reso conto davvero di che cosa significava la lotta armata e che cosa significava uccidere e corre il rischio di venire ucciso questo sinceramente non lo so penso che ci sia penso che lo vediamo anche adesso in questi in questi giorni a combattere le guerre vanno i giovani è così purtroppo tocca a loro tocca a loro perché ci sono mandati tante volte mi sono chiesto se Walter non avesse incontrato Renato Curcio se Renato Curcio non gli avessi messo in mano la Luger che era di Gian Giacomo Feltrinelli si sarebbe trovato in quella situazione lì e chi lo sa sono interrogativi che purtroppo rimangono senza risposta in una in un'altra vita Walter sarebbe ancora vivo sarebbero vivi Vittorio Padovani Sergio Bazzega i loro figli non sarebbero cresciuti orfani le loro moglie non sarebbero diventate vedove Walter Magrever aveva dei figli che giocano con i miei e non è andata così purtroppo è un po' complicato farti le domande perché tu sei parte in ti senti parte in causa in questa storia qua tu prima parlavi della della Morante e io ricordo l'esergo che c'è nella storia della Morante quando lei dice non c'è parola umana che possa descrivere il lutto terribile della del topolino su cui si fanno degli esperimenti per far mandare per far andare avanti il progresso no? quello è comunque un lutto noi non lo vediamo che cosa vuole dire che sta per raccontare questa storia cioè l'inevitabile l'inevitabile storia con la S maiuscola che va avanti e per andare avanti deve macinare le piccole storie allora tu in quel tritacarne senti che ci sei senti che ci sei finito lo siamo tutti quanti noi in una qualche maniera però quelli sono stati anni in cui la grande storia è entrata nelle case delle persone e e ha distrutto delle famiglie quindi ho così mi preme sapere questo da te se effettivamente la storia per andare avanti ha bisogno di di fare delle vittime o ce lo siamo raccontato e forse ce lo siamo raccontato io una settimana scorsa ho fatto questo dialogo molto bello sul giornale con Gabriele Nissim che è il fondatore cioè l'ideatore della giornata dei giusti dell'umanità fino a prima di lui la giornata dei giusti dell'umanità era riservata soltanto a celebrare diciamo le persone che hanno salvato vite umane durante l'olocausto e invece lui dice no dobbiamo estenderla a chiunque abbia salvato delle vite durante un eccidio o durante un crimine qualsiasi e lui mi ha detto proprio questo io lui mi ha raccontato di aver cambiato idea su questa cosa qua no cioè il fatto che c'è sempre un margine di intervento anche nelle vite minuscole nelle vite di chi di chi subisce tu hai raccontato soprattutto in questa parte hai fatto un grande affresco di come il nostro novecento è entrato nelle case delle famiglie normali e io l'ho presa come l'ho preso come il racconto di qualche cosa di inevitabile no qualcosa a cui a un certo punto era impossibile non reagire in un certo modo quindi vorrei portarti su questo lo so che è difficile è difficilissimo no no ma sì è impossibile reagire in un certo modo perché per esempio Ada nasce in questa famiglia in cui appunto suo papà ha fatto la marcia su Roma è del 4 quindi non ha fatto in tempo a fare la prima guerra mondiale tanti di quelli che hanno fatto la marcia su Roma invece erano reduci erano arditi erano ragazzi che avevano vissuto sulla loro pelle la violenza estrema della guerra in trincea e che poi tornando a casa avevano visto disattese le promesse che gli erano state fatte e che quindi nel 19 Piazza Sansepolcro si uniscono Mussolini perché lui invece è dei loro lo sentono molto vicino Giuseppe Tibaldi il papà di Ada lui la guerra non l'ha fatta però a 18 anni nel 22 lui diventa fascista e va a fare la marcia su Roma e Ada cresce in quel contesto lì quando va alle colonie Ada alla colonia 28 ottobre a Marina di Massa e c'è la cerimonia dell'alza bandiera loro cantano Giovinezza e cantano Lost Vessel Lied che è l'inno della Germania nazista e ovviamente hanno l'uniforme tutte queste cose qua com'è che quella bambina lì che nasce in quel contesto poi finisce per avere un figlio brigatista perché 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 nasce nel novecento nasce il novecento e e quindi si ritrova lei a dover come dire far fronte a delle cose che sono molto più grandi rispetto a no a quello che lei si trova davanti il 25 aprile il 45 i partigiani che vengono a prelevare suo padre per andarlo ad ammazzare dietro il cimitero di Nole perché perché ha fatto la marcia su Roma perché era fascista allora lei con i fratelli e le sorelle si stringono intorno al padre e dicono se portate via lui portate via anche noi e per fortuna c'è un partigiano che dice vabbè lasciamo stare il Tibaldi andiamo e poi e poi lei scriverà nelle lettere che scriveva la mia sorella dopo la morte di Walter che Walter era un partigiano perché perché c'è questa riproposizione in termini ovviamente come dire in scala della guerra civile negli anni 70 perché in Italia c'è stata la guerra civile tra 43 e 45 e il primo il primo a dirlo è stato Claudio cioè il primo a dirlo a sinistra è stato Claudio Pavone perché da destra quello lo dicevano già altri Claudio Pavone scrive questo libro per Bollati Boringhieri nel 90 e qualche cosa e viene molto criticato perché il primo a usare quell'espressione lì ma è quella cioè purtroppo ancora oggi l'odio che noi percepiamo quotidianamente da dove ci arriva se non da quella guerra civile lì che non abbiamo mai superato in cui l'avversario politico non è un avversario è il nemico e in quanto nemico non è umano e in quanto non umano lo puoi schiacciare ieri c'è stata questa cerimonia a Milano in cui parla Frassinetti che è sottosegretaria del governo è andata a omaggiare Sergio Ramelli che è stato ammazzato a colpi di chiave inglese perché era del fronte dello gioventù a 19 anni anche lui a coetaneo di Walter sarebbero diventati amici se non fosse atto per la politica perché andavano tutti e due in un istituto tecnico tutti e due con i capelli lunghi tutti e due che amavano la musica tutti e due ti favano per l'Inter si fossero incontrati davanti a un negozio di dischi non sapendo l'uno dell'altro e invece schiacciato anche lui a colpi di chiave inglese si è fatto 47 giorni di coma è stato contestato perché Ramelli era fascista però finché continuiamo a disumanizzare in questo modo l'avversario non usciremo mai da questo meccanismo perverso non ho risposto all'autodomanda no 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 figurati ma dobbiamo soltanto e quindi quando tu vivi diciamo nella tua quando la tua storia per puro caso perché non è che la scegli tu intercetta queste cose qua e farci conti non è semplice perché perché poi appunto per esempio una donna come Ada uno dei motivi per cui ho scritto questo libro oltre a quelli personali ovviamente è perché una donna come Ada non ha mai avuto voce perché il dolore di chi stava dalla parte sbagliata non ha mai avuto diritto di cittadinanza eppure ha sofferto molto anche lei è morta per il dolore no no ma infatti è la cosa interessante di questo libro e non so se riusciremo mai a fare i patti a fare giustizia da questo punto di vista no che significa semplicemente riuscire ad accogliere il fatto che c'è stato dolore da tutte e due le parti poi io non amo parlare di parte giusta parte sbagliata perché altrimenti dovremmo cambiare tutte le premesse di questo discorso è chiaro forse c'è la parte ci sono quelli che sono stati accanto a chi ha fatto un errore che forse è diverso da dire parte parte sbagliata però ecco io ti faccio questa domanda perché la storia di questo paese è chiaro che noi sediamo su una serie di misteri che non vengono indagati per ragioni ideologiche perché perché non si riesce mai invece a fare semplicemente i conti con la storia del resto il tempo giusto della distanza giusta da quella parte della nostra storia è passato però non si riesce ancora secondo te perché quello che è questa contrapposizione serve a qualcuno o serve a qualcosa ma io anche proprio andando a scrivendo questi libri e anche come dire mettendo insieme una serie di materiali che non sono entrati direttamente nei libri ma banalmente sono giunto alla conclusione che tutto questo è servito semplicemente a preservare il potere lo status quo compreso anche l'uccisione di Moro voglio dire Moro è servito è stato funzionale alla conservazione del potere punto e basta dovevano ucciderlo faceva comodo tanti è andata così purtroppo non riesco a trovare un'altra chiave di lettura cioè anche quando noi appunto ricordiamo per esempio il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro ci dimentichiamo dei cinque poliziotti di scorta che sono stati uccisi in via Fani e tanti poliziotti o carabinieri sono stati uccisi in quegli anni ed erano persone che tendenzialmente o avevano in mente chiaro che si trovavano in quella situazione perché volevano difendere i valori della Costituzione oppure era un lavoro ed era un lavoro che li metteva purtroppo fortemente a rischio però l'elenco delle vittime di quella stagione è impressionante comprende vittime da una parte civili che erano in piazza ed è scoppiata la bomba o erano in banca uomini in divisa ragazzi che abbracciavano l'otto armato e comprendeva anche naturalmente persone che non c'entravano assolutamente nulla con tutto cioè con quello che stava accadendo in quel periodo cioè voglio dire appunto chi stava nella stazione di Bologna nell'agosto del 1980 cosa c'entrava con con tutto questo nulla e però tutte queste tutte queste vittime alla fine oltre a queste ci sono anche quelle dell'eroina perché poi in quegli anni non casualmente nelle grandi città quella generazione viene falcidiata dall'eroina e c'è da chiedersi no? cioè una volta parlando con uno che aveva fatto la scelta opposta rispetto a Walter perché era entrato in terza posizione e parlando del senso che potesse avere questa storia che io non trovo un senso cioè soprattutto io mi guardo attorno all'Italia oggi e penso a chi è morto all'epoca cosa direbbe dell'Italia di oggi e lui mi ha detto guarda non devi cercare un senso perché sono persone che sono morte per il loro ideale da una parte come dall'altra e non è non è una grande consolazione perché tu mori per un ideale però ti lasci appunto alle spalle tante persone che che non hanno più te lasci tanti tanti buchi tanti vuoti e non è vero che il tempo ripara quei vuoti quelle ferite il tempo è una cosa che ci raccontiamo noi perché appunto è vagamente consolatorio pensare che dopo 20 anni 30 anni 40 anni 50 anni in realtà non è così perché chiunque di noi abbia perso una persona cara sa che con quella persona noi parliamo tutti i giorni quindi il tempo non ripara niente certe ferite rimangono sempre aperte c'è una cosa che mi ha molto colpito di questo libro cioè il fatto che tu racconti una famiglia felice in fondo no anzi non in fondo è una famiglia piena di persone appassionate golose curiose che si vogliono un bene molto forte mi sembra no proprio una famiglia normale piena di voci rumorosa io quando leggo questo libro vengo invasa da immagini di pareti bianche bambini che camminano per lunghi corridoi giocano sacchiappano e adulti che si sono capiti allora ed è però incredibile che proprio all'interno di una famiglia così che quindi per i suoi componenti basta se stessa ok uno che sta bene a casa in fondo poi anche se il mondo fuori va a rotoli può anche lasciar perdere no e invece tu racconti riesci a far trasparire questo no di Walter il fatto che a Walter non bastasse questa cosa qua c'è un dialogo molto bello che lui ha con sua mamma quando lei gli dice ma tu che vuoi e lui dice io voglio la rivoluzione tu l'incanto della rivoluzione immagino che non l'abbia mai avuto forse esatto no questa è una cosa che sembra una banalità però invece credo sia importante cioè c'è tutto un tratto tutta una generazione di questo paese mi ricollego a quello che dicevi sull'eroina che il mito della rivoluzione non ce l'ha avuto neanche durante l'adolescenza allora mi mi chiedo questo di te visto che fai lo scrittore e forse fai lo scrittore perché ti è successa questa cosa perché se tu dici poi alla fine tutto mi riconduceva a questa storia in fondo questa è ecco vorrei sapere da te vorrei che ci raccontassi questo com'è crescere sapendo che l'ideale della rivoluzione fallisce non esiste e che risposta ti sei dato al fatto che Walter nonostante stesse così bene poi invece ha cercato qualcosa per far stare bene anche gli altri fuori dalle sue mura di le sue mura di casa tu l'hai conosciuto e quindi forse ecco questa fame di giustizia per il mondo da chi gli è arrivata forse la sua madre ma allora la prima parte della domanda vale sempre quello che diceva Mao Tse Tung la rivoluzione non è un pranzo di gala la rivoluzione è una cosa molto violenta e io avevo i miei vent'anni sono stati nel 1985 quindi in pieno reflusso no? come la mia generazione ha vissuto la sua ribellione attraverso fondamentalmente caratteri estetici ci si rasava i capelli o si coloravano di tinte strane si mettevano capi di abbigliamento all'epoca ritenuti così alternativi no? c'erano le bande metropolitane queste cose qua non era più una rivoluzione ovviamente era una rivoluzione estetica se vuoi gli inglesi sono stati bravi in questo perché in Inghilterra dove ci sono stati dei fortissimi contrasti sociali all'epoca dello show Prodiminatori quando la Thatcher è salita al potere ha smantellato la sanità pubblica ha cominciato a smantellarla perché poi Tony Blair ha fatto il resto e ha fatto delle politiche sociali assolutamente vera macelleria sociale però in Inghilterra lo sfogo qual è stato? La musica e il calcio e quindi i giovani inglesi si sono sfogati in quel modo qua in quel modo lì in Italia in parte in Germania con Raff Badermainoff in Francia anche un po' con Action Direct c'è stata invece la lotta armata o il terrorismo noi che siamo arrivati dopo quando leggevamo sui muri pagherete caro pagherete tutto scrivevamo sì con l'American Express Stick Platino perché andava a finire così avevamo una consapevolezza che purtroppo chi ci aveva preceduto non aveva ed eravamo anche un po' più cinici per forza di cose cioè quando vedi che la rivoluzione finisce con un colpo al cuore nel cortile dove hai giocato da bambino la rivoluzione diventa una roba in cui fai fatica a credere poi cresci e ti rendi conto per esempio che quello che hai studiato a scuola non sempre quadra ti rendi conto che anche hai dei pregiudizi perché adesso io banalmente vai al cinema vedi il film della Sofia Coppola su Maria Antonietta che è passata la storia dicendo ah non c'è il pane date i brioche però come fai a non empatizzare con quella ragazza di 17 anni che va in sposa a uno che non conosce e che si ritrova isolata dal resto del mondo in questa corte surreale e passa come capo espiatorio per essere ghigliottinata sotto la bastiglia o dove c'era la bastiglia e quindi come dire c'è grande confusione sotto il cielo come diceva sempre Mao e tu prendi atto di questa grande confusione la seconda parte della domanda era invece ah perché Walter ma perché Walter purtroppo Walter credeva davvero di poter cambiare il mondo e anche se stava molto bene nella sua famiglia questo non gli bastava perché perché guardandosi attorno vedeva delle ingiustizie palesi una delle cose che racconta Renato Curcio che io non ho mai voluto incontrare anche se avrei avuto la possibilità di farlo perché non gli ho mai perdonato il fatto di aver messo una pistola in mano a Walter a un certo punto Curcio racconta che quando conosce Walter Walter lo porta Curcio in quel momento è appena evaso dal carcere di Alessandria si ricordo bene dove l'hanno fatto scappare un commando delle Brigate Rosse capitanato da quella che era sua moglie all'epoca Maracagol che poi rimarrà uccisa in seguito al rapimento di Vallarino Gancia e quindi Curcio vive questi mesi di latitanza a Milano nel Ticinese ed è lì che i due si incontrano e Curcio scrive una pagina perché Curcio ha fatto non so volevo sapere c'è questa casa editrice sensibile alle foglie dove ha pubblicato diversi volumi sugli anni di piombo eccetera e dedica a Walter un paio di pagine e racconta che Walter lo prende e lo porta nelle periferie estreme di Milano e gli fa vedere questi ragazzi che cominciano a farsi di eroina e gli dice guarda che questa cosa qui non va bene cioè dobbiamo preoccuparci di questi ragazzi che si fanno di eroina quindi ovviamente dal suo punto di vista no? cioè ovviamente non va bene perché? perché è contro rivoluzionario l'eroina perché ti distoglie da quello che dovresti fare ma perché perché si guarda attorno perché non è chiuso nel suo mondo da otaku come oggi si usa questo termine giapponese questi ragazzi che si chiudono nel loro mondo stanno davanti al computer no all'epoca non c'erano intanto per cominciare questi mezzi qua e lui si guardava attorno quanto credi che abbia a che fare la storia di Walter con il fatto che questo è un paese che molto facilmente condanna la giovinezza e questo te lo chiedo perché i brigatisti ce li hanno sempre raccontati per per larga parte come degli assassini brutali cosa che sono stati sono stati anche quello e poi però è cominciato ultimamente un altro racconto dei ragazzini sprovveduti no perché erano dei ragazzini sprovveduti cioè a un certo punto c'è stata questa questa nuova fase ma come dicevo prima appunto c'erano tante letture alle spalle c'erano guardarsi attorno non non penso alla sprovvedutezza penso per certi versi all'ingenuità che è un'altra cosa cioè l'idea ingenua davvero pensare che che la rivoluzione sia dietro l'angolo in un paese che ha avuto soltanto contro rivoluzioni cioè l'Italia è il paese che ha avuto la contro riforma senza avere mai avuto la riforma cioè il concetto di rivoluzione non ci appartiene c'è una bellissima frase di Churchill che ho citato in un altro libro che dice è bizzarro popolo gli italiani fino al al 25 luglio 45 milioni fascisti dopo il 25 luglio 45 milioni di antifascisti però 90 milioni di italiani io non non li ho dai non risultano e purtroppo è così purtroppo è così cioè e chi invece ci crede fa male a crederci e fa del male però no è un paese fatto così dobbiamo a un certo punto fare i conti con questo c'era un articolo stamattina di Paolo Giordano sul Corriere della Sera che parlava appunto di queste indagini sul covid e lui è un articolo molto lungo molto interessante molto bello e a un certo punto lui dice quello che bisogna comunque evitare è che quest'indagine prenda una deriva alla ustica e quante derive abbiamo preso alla ustica in questo paese tante troppe troppe e e l'agenda rossa di Borsellino e cioè quante e però alla fine ci scivola tutto addosso e questo purtroppo di questo pagano chi coloro i quali invece le cose non se le fanno scivolare addosso tu pensi che ristabilire la verità invece servirebbe alla coscienza davvero alla coscienza civile di questo paese cioè queste che non sono colpe ma sono ormai abitudini storiche no e quindi sono diventate parte del nostro DNA diciamo della nostra morale o della nostra amoralità ecco queste cose secondo te le elimineremmo se sapessimo fino in fondo come sono andate le cose uno e se riuscissimo ad avere lo sguardo che hai avuto tu cioè uno sguardo pulito che però valuta i pesi da entrambe le parti ammesso che tu abbia avuto uno sguardo pulito io ho cercato di averlo a un certo punto cito presteso il famoso articolo di Per Paolo Pasolini quello che è passato la storia con io so no e Pasolini a un certo punto su Corriere scrive questo lungo articolo in cui dice io so i nomi dei mandanti delle stragi ma non posso farli perché non ho le prove di sicuro le prove le hanno i signori che stanno al governo e anche i signori che stanno all'opposizione perché lui chiama in causa direttamente il partito comunista italiano voi non potete non sapere quello che sanno dall'altra parte la democrazia cristiana e però anche voi tacete perché siete sotto ricatto questo viene detto da Pasolini Pasolini Corriere la Sera non lotta continua no Pasolini non a caso è l'unico intellettuale italiano a venire ucciso nel dopoguerra e anche lì di nuovo c'è una deriva ustica o sbaglio sappiamo tutto di come è morto Pasolini no allora però io non penso che però io temo che anche se tutte queste verità venisse appunto ustica cosa dobbiamo ancora scoprire perché ci sia una verità ufficiale su ustica eppure non c'è ma comincia tutto da portare dalla regginestra no primo maggio 1947 cioè così e poi il caso Mattei e poi no tante altre cose sarebbe bello avere delle verità credo che ci siano delle storie per quanto riguarda per esempio le storie con la S minuscola penso che ci siano delle storie che non possono essere sovrapposte e che però avrebbero diritto di essere rispettate le une e le altre dalle une e dalle altre e invece per quanto riguarda la storia con la S maiuscola temo che anche se tutte queste verità venissero una volta per tutte acclarate dopo 50 70 80 anni dei fatti quando ormai no il Baba Beccaris ormai è andato parliamone in maniera non penso che cambierebbe granché il nostro atteggiamento nei confronti del mondo che ci circonda sinceramente sono molto pessimista su questo ti faccio una domanda complicata qual è il compito di uno scrittore secondo te ammesso che ce ne sia solo uno il compito di uno scrittore dipende dallo scrittore da cosa scrive il tuo il mio compito ora il mio compito in questo caso è stato cercare di raccontare questa storia nella maniera più onesta possibile che cos'è l'onestà Giuseppe l'onestà è mettere sulla carta tutto torti e ragioni senza giudicare perché io penso che lo scrittore non debba essere tenuto a giudicare io penso che il giudizio solo fa il lettore questo lo dico anche dal punto di vista di uno scrittore che scriva soltanto fiction cioè questi sono due libri che non sono di finzione prima io ho scritto tanti romanzi e nei romanzi uno inventa ma anche quando inventa secondo me non deve mai 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 giudicare i propri personaggi perché sarebbe disonesto da parte sua il personaggio viene fuori Fitzgerald diceva il personaggio è azione il carattere del personaggio viene fuori da quello che fa da come si comporta da che cosa dice uno scrittore vince secondo me la sua battaglia nel momento in cui riesce a farci amare personaggi che noi nella vita di tutti i giorni tendenzialmente saremo portati a detestare io faccio il tifo per Raskolnikov anche se è lui che ha ucciso quella signora per non pagare l'affitto in delitto e castigo nel momento in cui io mi sento vicino ai personaggi di Selin nel momento in cui io mi sento vicino ai personaggi negativi chi ha scritto quei libri ha fatto un buon lavoro perché mi ha mostrato che quei personaggi sono persone non sono soltanto bidimensionali hanno una loro complessità come si dice oggi e quindi non riesco a ridurli a così buono cattivo giusto sbagliato perché nell'animo di ciascuno di noi c'è tanto c'è anche tanto male e per questo il mostro ci è utile perché il mostro ci pulisce il mostro è il mostro è alieno non ci appartiene ma se noi facciamo i conti col fatto che invece è nostro fratello perché Caino è fratello di Abele e però è capace di commettere cose mostruose questo ci mette ci dà qualche problema in più quando ci guardiamo allo specchio perché io una delle cose che appunto non avrei dovuto fare però l'ho fatta è che a un certo punto scrivendo prima dicevi di domani nel quotidiano domani mi è scappato di scrivere a proposito del libro su Walter è che i mostri non esistono che anche Hitler non era un mostro perché è comodo pensare che fosse un mostro invece era un uomo che ha fatto cose mostruose no certo è una differenza importantissima è una differenza fondamentale perché il mostro ti assolve e se tu invece fai conti con il fatto che il mostro non c'è le cose si complicano perché io ho avuto la fortuna di nascere in un certo in una certa epoca in un certo in un certo ambiente fare certe letture avere certe amicizie non lo so sono diventato quello che sono anche per delle cose che non dipendono dalla mia volontà sono cose un po' no uno nasce qui oppure nasce in Africa oppure nasce oppure nasce nella Russia di Putin o nella Germania nazista o altrove e non tutti poi diventano i ragazzi della Rosa Bianca esiste però credo dimmi come la pensi tu dentro di noi sia l'anelito al bene che l'anelito al male allora il punto è quali quali dei due cerchi e provi a nutrire e il punto è quando decidi di farli nutrire da altri si esistono a volte però paradossalmente tu sei convinto di fare il bene facendo del male e viceversa e questo è un grosso problema ecco questo è il punto no in realtà no poi alla fine tu sei convinto di fare il bene in realtà stai facendo del male Walter era convinto di fare il bene certo poi qualche tempo fa ha intercettato un'intervista a uno dei fondatori delle Brigate Rosse a Franceschini che diceva se noi mai fossimo saliti al potere saremmo stati stalinisti quindi no si parti con le migliori intenzioni poi chissà come va a finire esiste un assoluto Giuseppe esiste? un assoluto un bene assoluto il bene assoluto è la musica questa è un'ottima risposta tra l'altro tu la racconti anche c'è la musica in questo in questo romanzo c'è Ada che canta a parte che poi c'è questa cosa magnifica del raccontiamo raccontiamo il titolo la ragazza che non doveva la bambina che non doveva piangere la bambina che non doveva piangere perché lei è nata raccontalo tu perché Ada nasce con l'albero leporino e quindi viene operata da bambina appena nata praticamente pochi giorni e chi la opera si raccomanda con la madre non deve assolutamente piangere perché altrimenti si riapre la cicatrice e quindi ovviamente lei piange e quindi lei per tutta la vita avrà l'albero leporino che maschererà con il rossetto e quindi è anche la scusa per cui riesce a far accettare da suo padre il fatto che lei a 12 anni già usa il rossetto cosa che le sue sorelle non possono fare e lei dice no io ce la lavoro leporino quindi mi metto il rossetto e Ada è così Ada è quella che mangia tutti i zuccherini comprati con grande fatica durante la guerra dal nonno in cambio di una parte del raccolto perché c'era bisogno di zucchero in un tempo di guerra prezioso il nonno nasconde cioè suo padre nasconde tutto in un posto che lui li tiene sicurissimo poi quando uno dei sei figli si ammala va a cercare i zuccherini spariti è convinto che la sorella maggiore Maria sia stata lei e quindi botte a Maria perché all'epoca si usava così e Ada zitta poi il giorno in cui Ada si sposa torna indietro quando sta per partire per Milano va da suo padre e dice senti ti devo dire una cosa sai tanti anni fa i zuccherini ho mangiato io non è stata Maria e Ada era così come Walter che andava a comprare il gelato lei gli dava i soldi per andare a comprare il gelato lui tornava a casa con un chilo di gelato si chiudeva in bagno a chiave e solo mangiava tutto oppure quando va da prendere la liquidazione dopo anni passati in fabbrica le danno un milione e mezzo di lire che all'epoca era ben poca cosa ma per lei erano tanti mai visti tanti soldi tutti insieme lei aveva paura di andare a prendere la liquidazione da sola quindi gli dà dice Walter vieni con me Walter va con lei quando tornano a casa lui si imbatte nella vicina di casa che sta facendo le pulizie delle scale e dice la signora vuole dei soldi e butta un milione e mezzo così per le scale e Ada dice ma disgraziato ma quella è la mia liquidazione cosa fai erano fatti così tutti e due erano molto 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 di compagnia come si dice hai raccontato molto di più lei del papà ho raccontato più Ada di Guido vuoi dire sì perché la protagonista è lei del libro sì certo perché Guido dietro la sua macchina fotografica per esempio Guido non si è accorto di quello che succedeva in casa e Walter ogni tanto lo prendeva in giro perché appunto Walter era quel carattere lì e quindi quando discutevano all'epoca c'era questa idea per cui le brigate rosse erano in realtà provocatori fascisti c'è stato un periodo in cui ovviamente il partito comunista non voleva cioè aveva un atteggiamento di assoluta chiusura nei confronti di questi brigatisti e a un certo punto Guido che era fedele all'allina al partito comunista ce l'aveva con questi qua delle brigate rosse e Walter un giorno gli dice ma guarda che tu ce l'hai la brigatista in casa te la sei sposata ed era il suo modo per prendere in giro suo padre dicendogli la verità in realtà perché poi appunto la mamma di Walter quando decide di aiutare Walter uno dei dei momenti più difficili di Ada è stato quando ovviamente è venuta a sapere che Walter è entrato alle brigate rosse che cosa fare per quel figlio tanto amato o lo denunci o cerchi di aiutarlo e lei non si sentita di denunciarlo io mi ricordo queste telefonate che faceva con mia madre che mi diceva la zia piange tanto al telefono ma non mi vuol dire perché piange è perché lei aveva questo magone come si dice e non riusciva a confidarsi neanche con la sorella più cara dopo di che un giorno Ada arriva da mia madre e le dice hai un cappotto da prestarmi e c'era questo cappotto ricevuto da questa cugina ricca cappotto fucsia bianca si chiamava la cugina che era il cappotto più bello che aveva mia madre e diceva se vuoi ti do quello se devi andare a una cerimonia o qualche cosa però è fucsia diceva va bene e lei quel cappotto lì lo usa per andare a fare da palo quando aiuta Walter e Renato Curcia a recuperare dei documenti in un appartamento che forse è stato individuato dall'antiterrorismo e quindi io mi immagino questa donna che per non farsi notare si mette un cappotto fucsia per fare il palo con una parrucca ovviamente poi il cappotto lo taglia e lo butta via e mia madre dice ma il cappotto che fine ha fatto ah l'ho perso vabbè però appunto una madre solo può fare delle cose del genere una madre perdutamente innamorata di un figlio per cui farebbe qualsiasi cosa al punto da correre il rischio di anche lei di mettersi nei pasticci infatti l'unica cosa cioè l'unico momento in cui poi Ada arriva ad ammettere il suo coinvolgimento nelle Brigate Rosse è quando intervistata dalla tv svizzera dice appunto se mio figlio avesse fatto il prete cosa che conoscendolo direi di no io sarei andata a messa tutte le domenica è stato il momento in cui lei ha confessato che cosa aveva fatto ti faccio un'ultima domanda poi se c'è qualcuno che vuole intervenire dal pubblico ovviamente siamo felici in famiglia come come è stato tu hai usato perché eri un bambino hai ricostruito attraverso i libri o hai usato anche la memoria delle persone dei tuoi familiari entrambe le cose nel senso era uscito un libro su Valteralasia di un giornalista che si chiamava Manzini Giorgio Manzini che scriveva per l'unità all'epoca il libro pubblicato dai Naudi è andato fuori catalogo molto tempo fa ed era intitolato Storia di un brigatista e in quel libro Manzini aveva intervistato lungamente i genitori di Valter era venuto anche a casa nostra aveva parlato con mio padre con mia madre con noi e però era un libro come dire che aveva un taglio molto sociologico e i genitori di Valter quando poi il libro è uscito l'hanno letto non c'era nulla che non fosse vero in quel libro però lo trovavano un libro molto freddo che non restituisse davvero chi era Valter eccetera io purtroppo quando ho scritto il mio libro non c'erano più nessuno dei due però chi ha conosciuto Valter e Ada della famiglia li ha ritrovati nel libro in questi due libri a cominciare da Oscar grazie Giuseppe grazie a te 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 grazie a te